Nessuna fumata né bianca né nera per la nuova giunta del Seribis. Il camino per fare il fumo c'è ed è ben acceso anche troppo ed ha un bel pezzo visto il fuoco e fiamme tra i contendenti agli scranni d'assessore nelle fila dei vincitori del posto ballottaggio. Ma a dieci giorni esatti dall'incoronazione di Re Massimo è ancora buio pesto per Fano. Se per Pesaro e Urbino dove lì ugualmente c'è stata la riconferma di Ricci e Gambini, la faccenda è stata quasi una formalità espletata in pochi giorni, a Fano le Acque sono di parecchio agitate. Il perno della discordia o meglio dell'accordo è la prestigiosa poltrona della presidenza del Consiglio Comunale contesa tra la lista del sindaco Noicità che nella scorsa legislatura aveva ottenuto ben due assessorati e la presidenza di Aset e che ora invece per volontà dello stesso Seri di dare un assessore ad ogni lista se ne ritrova con uno solo ed il PD il quale invece ne rivendica il diritto dall'alto del suo risultato nelle urne che lo ha rimesso al primo posto come forza politica della città. Per la lista del sindaco Caterina Delbianco, assessore uscente, è in pole position per l'unica poltrona a disposizione. Per il PD invece le cose sono ben diverse con tre assessorati da giocarsi e la pattuglia anche degli uscenti ed Etienne Lucarelli che ha sparegliato un po' le carte con il suo bel risultato numerico ed in rappresentanza della lista Insieme è meglio come da prescrizioni sindachesche. Le lotte intestine quindi tra dame e cavalieri ed il sindaco quelle interne ai Democrat hanno portato al 19 di giugno a non avere ancora per Fano una giunta definitiva. Al principio sembrava che tutto fosse nelle mani del PD leggi ve ne toccano tre decidete voi quali ma al momento non sembra che sia andata proprio così infatti a meno di colpi di mano dell'ultimo minuto il tutto è rimandato alla settimana prossima allora quando dopo la riunione del direttivo del PD di venerdì prossimo sul tavolo del sindaco arriverà una rosa di papabili assessori più quello della presidenza del consiglio tra i quali Seri dovrà decidere chi e cosa faranno. Se escludiamo fanesi dato per certo fin dal principio nel quintetto trovano posto gli altri ex assessori Cecchetelli e Marcheggiani e le new entry Sara Cucchiarini e Dimitri Tinti con le loro belle performance elettorali.